Un convegno per il terzo anno consecutivamente per fare un focus sullo stato della caccia, sulle prospettive, sul futuro. Noi oramai è il terzo anno che organizziamo questa grossa manifestazione molto partecipata alla cooperativa Tre Ponti in prossimità dell'apertura della caccia. Normalmente, come quest'anno, facciamo un po' il punto della situazione, ovvero un'illustrazione del calendario venatorio regionale, un po' le problematiche affrontate e quelle da affrontare, ma quest'anno aggiungiamo un pezzo in più. Abbiamo la presenza del dottor Michele Sorrenti, responsabile scientifico dell'ufficio Avifauna Migratoria di Federcaccia, nonché referente presso la Commissione Europea di Face Europa ai cacciatori europei per la revisione delle direttive Habitat e Uccelli. Michele Sorrenti illustrerà i progetti presentati qualche mese fa in Spagna ad un congresso internazionale, con particolare attenzione per i progetti della Lodola, del Tordo Bottaccio, la migrazione pronunziale della Beccaccia e anche la Cesena in provincia di Brescia. È un'occasione veramente ghiotta perché il tecnico è a livello internazionale. Io penso che sia una buona occasione per i cacciatori di Fano e del circondario di essere presenti e di apprendere qualcosa di culturalmente nuovo rispetto a quello che il mondo venatorio finora ha prodotto. Quando ci sarà? A che ora e dove? Allora, giovedì sera, 31 agosto, alla cooperativa Tre Ponti, alle ore 19.45 con un piccolo buffet, e il convegno vero e proprio alle 20.45.